E' davvero un risultato che potevamo aspettarci perché sono una coppia straordinaria, alle loro spalle la coppia russa Yuko Kavaguti-Alexander Smirnoff, in terza posizione Christine Mortauers-Dylan Moscovich, ma da segnalare la nuova coppia Cheng-Peng-Ao-Jang che hanno 57 ed 89. Con questo noi concludiamo la nostra prima giornata della Cup of China a Shanghai.